Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello che è in crisi, ha scritto Maria Zambrano, pensatrice spagnola vissuta a lungo in Italia in esilio durante il franchismo, è quel misterioso nesso che unisce il nostro essere alla realtà. Qualcosa di tanto profondo e fondamentale da essere nostro intimo sostegno. E se avvecillare è quello che la Zambrano definisce il nesso tra l'essere dell'uomo e la realtà, allora è chiaro che nell'epoca del crollo delle evidenze, in crisi, è esattamente l'io. L'io, la persona, cioè, nella sua capacità di intelligenza del reale e del suo significato e nella sua capacità di aderire a ciò che intuisce come vero. Quando ragione e libertà vacillano, come descritto, allora è in pericolo il fondamento stesso della persona e della convivenza civile. A questa crisi quale risposta offre la politica? Qual è il contributo dei cristiani? A ben guardare, sembra che oggi la risposta non sia affidata più al progetto politico-sociale, come ad esempio accadeva nel progetto che pensava di forgiare l'uomo nuovo attraverso il crogiolo dell'ideologia della lotta di classe, come abbiamo sentito. Oggi la trasformazione dell'uomo è affidata all'ordine giuridico. Il proliferare di nuovi diritti ne sono l'espressione più significativa. Anche a Ragusa è stato introdotto il registro delle unioni civili e quello del fine vita. Anche di noi si fa a strada l'idea che ci sia un diritto del bambino a non nascere se non perfettamente sano. E di questi giorni la richiesta di una coppia iblea di un risarcimento per la figlioletta nata con una grave malformazione e morta dopo pochi giorni. Questi nuovi diritti però, a ben guardare, sembrano rappresentare una scorciatoia attraverso cui il desiderio di autorealizzazione degli uomini di oggi, sganciato da una visione di insieme, cerca la felicità nella forma che ritiene più opportuna appunto per via giuridica. In tale contesto la politica sembra limitarsi, ridursi ad un luogo asfittico in cui ci si limite a rivendicare la propria presunta purezza morale da opporre al malcostume degli altri. Oppure essa si riduce al prendere atto e a secondare quegli orientamenti che l'invadenza dei media e di chi li possiede rende di volta in volta dominanti. La politica, affermava Don Giussani nell'87, ha però, in quanto forma più completa di cultura, come compito quello di trattenere come preoccupazione fondamentale l'uomo. Ma l'uomo non esiste come monade autoreferenziale. L'uomo vive sempre in relazione. In occasione del convegno a Firenze, citato da Padre Sorge, Papa Francesco esemplificava il sentimento dell'umiltà posto alla base di un nuovo umanesimo che nasca dalla contemplazione del volto di Cristo con le parole di San Paolo. Ciascuno di voi, diceva, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. E' forse da questa coscienza che scaturisce, come afferma Don Cuglian Carron nel suo libro La bellezza disarmata, la possibilità di percepire l'altro, nella sua diversità, come diceva Padre Sorge, come una risorsa, come un bene e non come un nemico da azzerare. Che non si tratti solo di un più auspicio, lo dimostra la storia dell'Europa. Cosa permise, infatti, ai padri fondatori dell'Europa Unita, ad Adenauer, Schumann, De Gasperi, di trovare la disponibilità a parlarsi, quando, sino a pochi anni prima, tedeschi, franceschi e italiani si erano sparati addosso da fronti diversi. L'evidenza permise questo, l'evidenza, che l'altro non può essere azzerato, ma che, al contrario, può essere un bene per me. L'altro può essere un bene per me. Ciò vale nel campo della dialettica politica, sempre paralizzata dallo scontro, sia in quello sociale, in costante trasformazione, come vediamo ogni giorno, per le ondate di profughi e di uomini e donne che infrangono le frontiere del nostro quieto vivere e mettono alla prova la nostra capacità di accoglienza, sfidandoci a trovare le basi di una convivenza che sia percepita come umana da gente che provene da diverse tradizioni, culture e religioni. La percezione che è l'altro mi è indispensabile per essere me stesso è imprescindibile per realizzare una costruzione comune. In politica, tale coscienza si realizza in quella che Papa Francesco chiamava capacità di dialogo e di incontro. Tuttavia puntualizzava, dialogare non è negoziare, cioè cercare la propria fetta della torta comune, ma, cito, è cercare il bene di tutti, pensare alla soluzione migliore per tutti. E poi ancora diceva, non bisogna temere il conflitto né ignorarlo. È necessario invece, diceva, accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo. Proprio questa capacità di sopportare, risolvere e trasformare un conflitto in un nuovo processo, proprio in questa capacità sta il valore positivo della crisi. Affermava, infatti, Anna Arendt che la crisi ci costringe a tornare alle domande, esige da noi risposte nuove o vecchie, purché pensate, purché scatorite dalla riflessione. Qual è la pena? Quella che la crisi si trasformi in una catastrofe. All'idea di uomo che si autorealizza in una solitudine tecnologica in cui sperimenta su di sé le immagini più estreme che promettono di rispondere al grido di felicità che l'uomo stesso è, il cristiano risponde innanzitutto non con la rigidità delle norme, non con l'ennesimo piano pastorale per cambiare le strutture, bensì con un volto. La dottrina cristiana, continuava infatti il Papa, non è un sistema chiuso, incapace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, animare. A carne tenera si chiama Gesù. Francesco ricordava significativamente che il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e di discutere, ma di costruire insieme, di fare progetti, non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno a buona volontà. Concludo. Papa Benedetto diceva che il contributo dei cristiani sarà decisivo in questo contesto, in tutti gli aspetti del vivere, quindi anche nella politica, solo se l'intelligenza della fede diventa intelligenza della realtà, diventa intelligenza del reale. Ci sono esempi a cui possiamo guardare? Lo sguardo a Cristo, di cui parlava Francesco a Firenze, genera, ad esempio, una capacità di accoglienza della vita imperfetta, persino quella messa al mondo da altri, nel centro di aiuto alla vita di Ragusa. rende capaci di accogliere profughi ed immigrati, come fa a Vittoria padre Beniamino Sacco, accompagnandoli in un rapporto educativo all'interno di un'idea di integrazione che non è quella di una terra di nessuno, in cui ognuno fa quello che vuole nell'indifferenza generale, né quella dell'albergo, in cui ciascuno ha la chiave della propria stanza e deve solo rispettare le comuni regole del quieto vivere. L'idea di integrazione è quella, invece, di una casa che ha un ordine, un'identità e una storia, e in cui si è accompagnati a crescere nella proposta di un significato, nella libertà, come si fa con i figli. Ma potrei pensare ancora al Banco Alimentare, alla Caritas, alla Compagnia delle Maestranze Modicane, a Portofranco, e infine al Centro Risvegli Ibleo. Questo luogo rappresenta per la comunità scientifica e per la società ragusana la possibilità di non scartare, cioè ciò che non riesce ancora a comprendere e ciò che si ritiene indesiderabile. Nel dramma di un papà e nel calvario di una ragazza, Sara Di Natale, il centro è nel territorio ibleo luogo di ricerca e di speranza. Concludo davvero. Questa sfida la si può affrontare, costruire dei luoghi così. È possibile affrontarla solo perché eccede le nostre possibilità. È un paradosso. Essa non attiene, infatti, ultimamente alla politica, bensì alla fede. Non si fonda sulla nostra capacità, ma sulla generazione di un soggetto nuovo che è possibile nell'incontro vivo con Gesù. La sfida non riguarda gli altri, ma proprio noi riuniti qui questa sera. L'essenza di questa sfida è stata riassunta da Don Julián Carron nell'acuta sintesi di una domanda. Ma noi cristiani crediamo ancora nella capacità della fede che abbiamo ricevuto di esercitare un'attrattiva su coloro che incontriamo e nel fascino vincente della sua bellezza disarmata? Grazie. Grazie.